Padre violento, bambina chiama i carabinieri, è stata la figlia di 12 anni a permettere l'arresto di un uomo che da tempo usava violenza fisica e psicologica nei confronti dei familiari. Ecco come sarà la rotatoria al celi del progetto definitivo, è stato presentato in commissione dall'assessore Celestino Marchini. Il parco si allarga, l'allarme di Bonfanti, la nuova perimetrazione del parco delle Apuane preoccupa il sindaco di Pescaglia, favorirà la diffusione degli ungulati. La differenza si gioca a carte, parte la terza edizione di Scarti, il gioco che mira a far conoscere agli studenti la corretta gestione dei rifiuti. Sotto la pioggia, aspettando il Livorno, Galderisi recupera Capuano e Cecchini, ma lascia qualche dubbio sull'undici che affronterà i labronici. Bruccini, Mingazzini e Nolea Centrocampo, con Fanucchi, ancora falso 9. CIR 2017, pur qualcosa si muove, a un mese e mezzo dall'avvio stagionale con il quarantesimo rally del Ciocco e della Valle del Serchio, ancora molte le pedine che devono sistemarsi sullo scacchiere del campionato italiano. Paolo Andreucci, tra le poche certezze. A tutti voi un cordiale saluto, ben ritrovati per questa edizione del TG Noe, che dunque apriamo con questo servizio un po' particolare, su questa cronaca dalla Valle del Serchio di ordinaria violenza familiare. Un uomo è stato arrestato dopo che la figlia, 12enne, ha chiamato i carabinieri. Maltrattava moglie e figli. I carabinieri di Castelnuovo hanno arrestato un 39enne residente in Garfagnana, dopo l'ennesimo episodio di violenza. L'intervento è scattato sabato scorso. Al 112 è arrivata la telefonata di una bambina di 12 anni per avvertire che il padre stava minacciando la madre con un paio di forbici. Arrivati sul posto, i carabinieri sorprendevano in effetti l'uomo, ubriaco, che aveva ancora con sé le forbici, la donna in stato di shock e i bambini in lacrime. Dagli accertamenti è emersa una situazione allucinante. L'uomo, già condannato per reati simili, in casa si comportava come un padrone, contando sul fatto di essere l'unica fonte di reddito della famiglia. Violenze fisiche e psicologiche, fino a negare il pranzo o la cena ai figli se non avevano eseguito particolari lavori in casa. Sabato scorso, l'ultimo episodio. L'uomo aveva consegnato 50 euro alla moglie per fare la spesa, poi però le aveva intimato di restituirle perché voleva andare a giocare alla slot machine. La donna aveva rifiutato. Per questo l'uomo prima l'aveva minacciata con le forbici, poi l'aveva colpita con un violento pugno alla schiena, nonostante lei avesse in braccio il figlio di 10 mesi. Infine aveva picchiato anche un altro figlio di 10 anni. A risolvere la situazione è stata la figlia più grande di 12 anni che ha chiamato i carabinieri. Adesso l'uomo è rinchiuso al San Giorgio. Sabato prossimo, 4 febbraio, saranno a Lucca due ministri del governo Gentiloni. Occasione il convegno promosso da IMT sulla tutela penale dei beni culturali che si svolgerà in San Francesco. Ai lavori parteciperanno il ministro della giustizia Andrè Orlando e il ministro dei beni culturali e del turismo Dario Franceschini. E adesso nel prossimo servizio vi andiamo a presentare in anteprima come sarà la rotatoria al Celide sulla circonvallazione di Lucca. Ecco come sarà la nuova rotatoria sulla circonvallazione di Lucca al Celide. Il progetto definitivo è stato illustrato in Commissione Lavori Pubblici dall'assessore Celestino Marchini. Rispetto a questo disegno è prevista solo una modifica sul tratto di strada che porta alla stazione. La rotatoria avrà un diametro di 33 metri, sarà quindi un po' più grande di quella sempre sulla circonvallazione all'incrocio con il Brennero prima di Porta Santa Maria e ovviamente più piccola di quella a Porta Elisa. Per far posto alla rotonda si dovrà prima intervenire sui marciapiedi delle strade adiacenti. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione l'assessore Marchini ha spiegato che la firma del contratto della ditta appaltatrice è prevista entro il 18 febbraio e si prevedono 150 giorni lavorativi. L'incrocio a Celide è uno dei più pericolosi della circonvallazione e nel corso degli anni non sono mai state trovate soluzioni definitive per regolamentarlo e renderlo più sicuro. Adesso il Comune ci prova con la rotatoria. La sfida è quella di realizzare una rotonda della giusta dimensione per evitare che essa stessa possa diventare un ostacolo al traffico invece di favorirlo. Intanto sulla nuova perimetrazione del Parco delle Alpi Apuane il sindaco di Pescaglia Bonfanti lancia un vero e proprio allarme. Nel lontano 24 maggio del 2003 il Consiglio del Parco delle Alpi Apuane votò una delibera per una nuova perimetrazione del territorio. La procedura di valutazione proseguita per ben 14 anni è adesso giunta al termine e a breve saranno comunicati i nuovi confini. Tanti i comuni interessati a questi cambiamenti e tra questi c'è Pescaglia che vedrebbe ampliare notevolmente l'area protetta con tutti i vincoli che ne conseguono. Questa nuova geografia del Parco sta creando grosse preoccupazioni al sindaco Bonfanti. La preoccupazione dell'ampliamento dei confini del Parco è ovviamente quella di l'introduzione di nuovi vincoli su queste zone, soprattutto per cui riguarda l'attività venatoria, perché la caccia in queste zone è regolamentazione del territorio, sia da un punto di vista del controllo della fauna, quindi degli ongulati che spesso hanno provocato problemi, sia da un punto di vista delle culture, ma anche dell'assetto idrogeologico, perché vanno a distruggere e arare quello che è il territorio, che ovviamente da un punto di vista della frequentazione stessa dei cacciatori che sono delle antenne importanti per il territorio, perché vanno a tenere e manutenere quelli che sono i sentieri e a segnalare eventuali distesti che si manifestano sul territorio. Quindi la preoccupazione è questa, che ci possa essere da quel punto di vista un peggioramento delle condizioni del territorio, per questo insieme alla Regione stiamo lavorando per trovare una soluzione che vada a mitigare questa decisione presa nel 2003. La Caplac, società produttrice del latte di San Ginese, è stata acquisita dall'azienda Sarda 3A Latte Arborea. L'accordo, ha riferito l'azienda Sarda, mira a favorire l'espansione dei due marchi in tutta Italia. È già campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative di Lucca della prossima primavera. Partenza ufficiale della campagna elettorale di Matteo Garzella, presidente del Consiglio Comunale ma in rotta con l'amministrazione Tambellini ed anche con i vertici del Partito Democratico. Garzella ha annunciato la sua candidatura a sindaco con il sostegno della lista civica Lucca Avanti Tutta. Il presidente del Consiglio Comunale ritiene di essere l'unica vera alternativa al sindaco uscente. La partita è cominciata, il quadro è tutto più chiaro, in campo ci sono due forze, una che vuole svendere Lucca a Firenze, che si riconosce intorno al sindaco Tambellini che grazie all'accordo raggiunto con i vertici del Partito Regionale ha riproposto la propria ricandidatura e c'è chi invece come me vuole ripartire dal territorio, vuole ripartire dalla comunità, vuole ripartire dalle espressioni più vive di questa comunità. Un progetto il mio assolutamente inclusivo, che non vuole lasciare dietro nessuno, che vuole ripartire dalle migliori energie che ci sono sul territorio. Per cui oggi parte ufficialmente la mia campagna elettorale che mi vedrà girare i territori, che mi vedrà continuare il percorso che ho avviato a luglio dello scorso anno, che mi ha già portato in diverse realtà a parlare con diverse persone per condividere questo grande progetto che coinvolge tantissime persone. Per Garzella, dietro a Tambellini e agli accordi con Firenze, ci sarebbe l'ombra del senatore Andrea Marcucci, che secondo il presidente del Consiglio Comunale si staglia anche dietro a un altro candidato, Remo Santini. Votando loro due, ha detto Garzella, in realtà si vota Marcucci. Ci sono altri candidati che rispetto, ha concluso Garzella, ma io sono stato il primo a lanciare la sfida e gli altri ora mi vengono dietro. E sulle prossime amministrative sarà incentrata la puntata di venerdì sera di Dido, in onda alle ore 21 su Noi TV. Ospiti, quattro personalità che hanno annunciato la loro candidatura, Fabio Barsanti, Matteo Garzella che abbiamo appena visto, Luca Nannipieri e Remo Santini. Tema della serata e progetti concreti per Lucca. Come sempre, per domande e commenti potete inviare sms o whatsapp al 360 10 38 330. Un gioco per il rispetto ambientale, un gioco scarti rivolto ai ragazzi delle scuole. Riparte Scarti, il gioco che mira la diffusione delle buone pratiche per il rispetto ambientale, che per il terzo anno consecutivo dà appuntamento a tutti i bambini e le bambine delle classi seconda, terza e quarta delle scuole primarie lucchese. Il via alla nuova edizione è stato dato alla scuola Chiellini di San Vito. L'aspetto fondamentale di Scarti è la sensibilizzazione dei bambini attraverso il gioco ad una corretta gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata. Il progetto, promosso da Comune di Lucca e Sistema Ambiente, si realizza grazie alla collaborazione di Lucca Comics e Games e della Ludolega Lucchese e si basa sul gioco di carte ideato dalla com.ing. Anche quest'anno si confermano partner due aziende cardine del territorio lucchese, Lucart Group e Cartiere Cardella. Anche in questa edizione ci sarà poi il concorso che vedrà le classi darsi battaglia per diventare la classe campione di Sistema Ambiente S.P.A. Scarti è stato un progetto importantissimo e l'importanza di questo progetto è stata quella di riuscire a far coniugare la scuola, la famiglia, i bambini e l'educazione alle buone pratiche domestiche, nella fattispecie con i rifiuti e con il riciclaggio dei rifiuti attraverso un gioco. Il gioco è una risorsa fondamentale non solo per il nostro territorio che ha una delle più grandi manifestazioni al mondo dedicate al gioco, ma anche come palestra della democrazia. Sotto il contratto del divertimento i ragazzi e le famiglie partecipano, imparano e imparano a migliorare il nostro territorio. Oltre 180 classi, quasi 3.000 famiglie coinvolte sono dei numeri importantissimi per un progetto che ha segnato l'educazione di questi ultimi cinque anni del nostro territorio positivamente. Scarti! Ci spostiamo a Pietrasanta per un'altra iniziativa rivolta anche in questo caso agli studenti ma dedicata al giorno della memoria. Un film per non dimenticare, una proiezione collettiva per riflettere sull'orrore dell'olocausto con La verità negata, pellicola appena uscita basata su uno dei più recenti e importanti casi giudiziari sul tema della Shoah. L'ultimo appuntamento in Versiglia dedicato alla giornata della memoria riservata agli studenti dell'Istituto Don Lazzari Stagi è andato in scena al Teatro Comunale di Pietrasanta. In sala si sono ritrovati 250 studenti delle superiori cittadine, quarte e quinte accompagnate dai loro insegnanti. La verità negata nelle sale lo scorso novembre è un film ispirato alla vicenda legale che ha visto contrapporsi la studiosa e storica statunitense Deborah Lipstadt al negazionista David Irving, autore di numerosi saggi su Hitler e la seconda guerra mondiale. Un processo andato avanti per quattro anni, riportato sugli schermi del cinema dal regista Mick Jackson con volti noti come quello di Rachel Weiss, Tom Wilkinson e Timothy Spell. Nonostante sia il 2 febbraio, Pietrasanta ha aperto le porte del Teatro Comunale a oltre 250 ragazzi delle scuole sul nostro territorio. Speriamo che i ragazzi possano apprezzare anche questa nuova rappresentazione di quello che è la nostra storia. mediante una negazione, un negazionismo che sostanzialmente è un'altra forma di terrore. È importante ricordare quello che è successo 72 anni fa, l'Olocausto e soprattutto è importante che questa memoria venga trasmessa alle nuove generazioni. Sabato prossimo, 4 febbraio, il centro di sanità solidale di Via dei Macelli a Lucca aprirà le porte alla cittadinanza con una giornata dedicata alla reumatologia. Prenotandovi al numero che vedete in sovraimpressione potrete usufruire di una visita reumatologica e una valutazione ecografica, lo leggiamo assieme, 0583, così vi diamo il tempo di prendere appunto 327790. Nonnevica, il sindaco di Careggine Mario Puppa, ospite mercoledì sera di diretta sindaco, annuncia il rinvio al 26 febbraio della ciaspolata che era stata programmata invece per sabato prossimo. Siamo confermate invece sempre per sabato 4 febbraio l'inaugurazione della nuova gestione del rifugio Alpiapuane, grazie alla neve artificiale, inoltre invece regolarmente in funzione l'impianto scistico di Careggine. Con questa notizia si chiude anche la prima parte del TG9, ci fermiamo per una breve pausa ma torniamo tra poco con le notizie sportive.